Allenamenti tornati a porte chiuse in preparazione della sfida di domenica contro il Frosinone capolista. In casa Pescara è tornata serenità e c'è anche la consapevolezza di poter risalire la classifica. Certo è che i ciociari sono un cliente scomodissimo non solo perché in vetta, non solo perché hanno segnato più gol di tutti subendo nemmeno di tutti, non solo per i tanti ex Pescara che saranno quasi tutti in campo. Pigliacelli in porta, Zanone Matteo Ciofani esterni difensivi, Gessa centrocampo, Daniel Ciofani in attacco. Il fatto è che il Pescara dovrà reinventare il suo centrocampo, orfano di tutti i titolari. Si vara così il 4-4-2, quello di Brescia insomma. E così Zuparic verrà spostato nella zona nevralgica, ruolo che aveva ricoperto anche lo scorso anno con Pasquale Marino. Zampano diventerà esterno di centrocampo, Magnero e Melchiorri insieme in attacco. Da Frosinone sono annunciati almeno 800 tifosi. Intanto i Pescara Rangers hanno emesso un nuovo comunicato nel quale confermano la loro protesta. Entreranno allo stadio 15 minuti dopo l'inizio della partita e lasceranno vuota la parte centrale della curva nord. Meritateci, scrivono rivolti ai giocatori biancazzurri. Infine è stabilita la data dell'ultima partita del 2014 del Pescara. Sarà a Livorno domenica 28 dicembre alle ore 18 e sarà valida per l'ultima giornata del girone di andata.